Anche l'Istituto Francesco D'Ateni aderisce alla forestazione urbana di Prato. Pianteremo 10 ulivi e 10 filari di vigneto nel nostro campo sperimentale, a scopi didattici e per la produzione di uva. Più verde significa più benessere, più salute e più bellezza per noi studenti. Aiutaci anche te a piantare nuovi alberi per il miglioramento della zona e per il miglioramento dell'ambiente. Al prossimo episodio